ok direi che ci siamo possiamo iniziare oggi parliamo del lato server quindi ci stacchiamo un attimo dalla parte client come detto inizio corso il lato server ci serve per far funzionare la nostra applicazione web un'applicazione web vuol dire che parla con un server web da qualche parte per nostra comodità il server web lo terremo sulla stessa macchina quindi sullo stesso computer dove abbiamo l'applicazione client ma questo ovviamente non è il caso più generale il caso più generale è quello che il server sta in giro per la rete e noi abbiamo la nostra applicazione client e dobbiamo interagire col server perché sul server chiediamo di fare delle operazioni chiediamo di recuperare le informazioni che ci interessano chiediamo di immagazzinare ciò che ci interessa nel nostro caso nell'esempio di lezione è la lista delle risposte, domande, gli aggiornamenti che vogliamo fare e così via nel vostro caso del laboratorio sarà la lista dei film e in generale saranno i dati che l'applicazione deve gestire quindi per farciò oggi ci dedichiamo a come realizzare un semplice server web e come detto in inizio corso lo faremo con il linguaggio javascript per nostra esclusiva comodità perché potremmo fare in qualsiasi altro linguaggio però siccome abbiamo imparato javascript lo facciamo in javascript e per farciò usiamo dei moduli di node che è quello che abbiamo visto nelle prime lezioni cioè quell'ambiente di esecuzione del codice javascript che useremo appunto per far funzionare il lato server perché il lato server non gira nel browser ma è un programma stand alone cioè che gira per conto suo che attiviamo ad un certo punto sta in ascolto su un certo indirizzo IP una certa porta e noi ci collegheremo con questo indirizzo IP con questa porta a partire dalla prossima settimana da parte del client per interagire scambiare dati e così via oggi però dobbiamo creare la parte server quindi dedichiamo queste tre ore a fare ciò quindi andiamo a vedere a dare un'occhiata alla server side e lo facciamo con questa idea che lo facciamo in javascript per nostra comodità dobbiamo essere in grado di caricare il contenuto statico ma questa è la cosa più semplice poche righe di codice ce lo consentono cosa intendo per contenuto statico non so le immagini che dovete mettere nel vostro sito altre cose, file html iniziale eccetera, tutte queste cose e poi ovviamente avere dei punti di accesso dinamici cioè che ci restituiscono contenuto diverso secondo dello stato dell'applicazione abbiamo aggiunto un film abbiamo aggiunto una risposta bisogna che quando richiamiamo le funzionalità per recuperare la lista delle risposte abbiamo queste informazioni e così via per farciò, per ricordarci le cose sul lato server non ci mettiamo a implementare noi la memorizzazione ma usiamo il database e usiamo quella SQLite 3 di cui abbiamo parlato nella seconda o terza lezione del corso perché quella SQLite 3? perché è il database più semplice che possiamo usare sul lato del server di nuovo vogliamo ottenere le cose il più semplici possibili per far funzionare un server web è indispensabile parlare del protocollo web cioè il protocollo http anche qui non ci metteremo a implementare il protocollo ma useremo un modulo che già è a disposizione che fa che implementa il protocollo http useremo questo express che è la cosa più semplice da usare e da imparare ed è sufficientemente diciamo così sofisticato e stendibile per implementare tutto ciò di cui abbiamo bisogno nel corso quindi dai primi punti di accesso questa API che vediamo oggi anche con moduli che aggiungeremo anche per fare un po' di autenticazione e così via ok allora il protocollo http dovreste già conoscere lo avevamo già richiamato quindi noi adesso ci poniamo sul lato server quindi nella freccia gialla e dobbiamo fare in modo che il nostro server risponda a queste cose qua è il secondo protocollo http ovviamente questo lo farà il modulino express e noi dobbiamo concentrarci sul contenuto ok dunque qui io andrei veloce perché tanto non dovreste già saperlo l'abbiamo già anche intravisto quindi protocollo http è un protocollo richiesta e risposta quindi noi dobbiamo fornire dei punti di accesso lato server chiameremo endpoint oppure API come volete e dobbiamo prima di tutto decidere quali fare quali servono per la nostra applicazione e poi dobbiamo farli funzionare nelle richieste nelle risposte vi ricordo che nel protocollo http è previsto una linea iniziale che è il metodo di richiesta verso il server che vediamo tra poco ripassiamo tra poco poi è una serie di header eccetera eccetera e poi un body che contiene messaggi i messaggi veri e propri i dati ok quindi la prima linea contiene il nome del metodo che dovremmo sempre scegliere accuratamente per esempio il metodo classico che andiamo a usare quando apriamo un browser web e chiediamo la prima pagina è sempre il metodo get perché get vuol dire vai a recuperare l'informazione che corrisponde a quell'url ok quindi questi sono i metodi che useremo noi ad esclusione di head diciamo che non ci interessa perché diciamo chiede solo se qualcosa è cambiato ma get post put e delete non sono tutti ce ne sono di più ma diciamo che questi sono quelli che per noi sono più che sufficienti l'importante sarà usarli nella maniera corretta al momento corretto è ovviamente ciò che andremo a fare noi quindi il get richiede una rappresentazione della specifica risorsa quindi deve solo recuperare dati e soprattutto non andare a fare modifiche dei dati sul server assolutamente quindi è ciò che ci serve a recuperare informazioni a leggere i dati in parole povere il post invia un'entità alla risorsa specificata cioè all'url spesso diciamo quasi sempre causando un cambiamento dello stato degli effetti collaterali nel server cosa vuol dire vuol dire che il server si ricorda ciò che è stato inviato abbiamo creato un nuovo oggetto abbiamo creato una nuova risposta un nuovo film e così via quindi il server da qualche parte se lo scrive tipicamente nella infrastruttura che abbiamo detto nel database put ed elite rispettivamente rimpiazzano la rappresentazione corrente della risorsa che abbiamo indicato quindi dell'url che abbiamo indicato con quello che abbiamo messo nel body quindi dobbiamo aggiornare un campo di un oggetto e così via metodo put piuttosto che dobbiamo cancellare la risorsa specifica metodo delete ok queste sono le operazioni che dovremmo andare a fare quindi recuperare le informazioni get crearne di nuove post modificarle put cancellarle delete ok le famose operazioni crude create read update delete ok il server ci dà una risposta dovremmo fare molta attenzione agli status call cioè ai valori che corrispondono a dirci come è andata questa richiesta quindi se tutto va bene la risposta è della serie 200 serie 200 vuol dire inizia per 2 200 e 200 e qualcos'altro a seconda del significato più preciso che vogliamo dare se c'è qualcosa che non è andato non è della serie 200 ma ci sarà un'altra serie quindi 400 300 500 eccetera vediamo i più utili tra un istante per esempio se abbiamo chiesto che so di cancellare qualcosa che non esiste ci dirà non l'abbiamo trovato non l'ho trovato se si è verificato un errore interno ci dirà che si è verificato un qualche errore interno lato server non ci può dare la risposta e così via questi sono gli status code che andremo a usare quelli in grassetto più che altro quindi non tutti ce ne sono un'infinità se voi andate sull'RFC di HTTP li trovate tutti diciamo che i più classici sono i 200 ok ovviamente il 404 not found e il 500 internal server error ok poi a seconda del bisogno ve ne farò vedere qualcun altro ma diciamo che con questi tre fondamentalmente ed è un eventuale messaggio nella parte body della risposta ce la possiamo cavare in tutte le situazioni ok gli header del protocollo HTTP ci servono fondamentalmente per indicare il tipo di codifica dei dati che trasmettiamo è vero che in HTTP 1.1 che è il protocollo che usiamo diciamo noi per fare le richieste ricevere le risposte ci sono 46 header definiti solo uno è obbligatorio che è l'host per dire a quale host andiamo a fare la richiesta perché se andiamo a prendere dove la richiesta di prima come vedete non c'è l'host quindi non c'è scritto localhost non c'è scritto google.com eccetera quindi deve esserci un header qui sotto che dice qual è l'host che ci interessa perché sulla stesso IP possono esserci più host ma questa è una questione HTTP che diciamo dovreste già conoscere ma comunque a noi non interessa perché questo header lo mette automaticamente chi fa la richiesta quindi lo metterà automaticamente il browser e basta perché è l'atto richiesta a noi interessa un secondo header che è questo il content type che ci servirà a indicare il formato dei dati in particolare noi useremo quasi sempre il content type application JSON perché tra un istante anzi stamattina tra qualche minuto stamattina vedremo questo formato di dati che è particolarmente adatto all'applicazione in javascript e noi codificheremo sia in andata sia in ritorno i dati in questo formato però bisogna dirlo perché chi riceve i dati deve sapere come sono stati codificati l'altro classico è il text html che però diciamo è di default e automatico nel momento in cui diciamo andiamo a chiedere una risorsa web l'atto server non è stato informato di un formato particolare dei dati e quindi assume di restituirci dell'html come per tutte le richieste web diciamo tradizionali questo è un po' il riassunto di tutto il discorso quindi noi andremo a usare i quattro metodi get, post, put, delete nel get non possiamo avere un body quindi non ci sono dati da spedire perché il get è una richiesta di dati ok e nella risposta ovviamente ci sarà qualcosa perché c'è ciò che abbiamo chiesto o eventualmente potrà anche essere vuota se il codice lo status code ci dirà non l'ho trovata va bene ok però diciamo questo dipende post richiederà di inviare dei dati così come la put ci potrà rispondere oppure no perché perché ogni tanto lo status code potrebbe essere sufficiente per sapere se l'operazione è andata a buon fine oppure no ok la delete di nuovo dipende dipende da come la vogliamo implementare quindi potenzialmente potrebbe essere vuoto sia il body di richiesta sia il body di risposta ecco fate attenzione che l'operazione di post non è idempotente cosa vuol dire vuol dire che se richiamiamo più volte lo stesso metodo post che lo stesso urlo è lo stesso contenuto si modifica di nuovo lo stato lato server e quindi se aggiungevamo un elemento poi se lo richiamiamo di nuovo abbiamo aggiunto un secondo elemento non è come la get che lo chiediamo una volta ci ritorna la lista chiamiamo la seconda volta ci ritorna la stessa lista se nulla è cambiato quindi possiamo chiamarla quante volte vogliamo ok invece tipicamente gli altri metodi lo sono sono idempotenti perché perché se cancelliamo una cosa che abbiamo già cancellato non si potrà più cancellare e se andiamo a modificare nella stessa maniera una cosa già modificata finirà che la rimodifichiamo nella stessa maniera cioè la modifica di fatto non ha effetto il risultato non cambia ok quindi questo è il breve riassunto su http mi raccomando porre estrema attenzione ai metodi che si usano per fare le richieste e ovviamente dare le risposte http questo è oggetto di valutazione all'esame se uno usa una get al posto di una posta è sicuramente un errore grave ok quindi andiamo a vedere come implementare nella pratica questi concetti abbiamo detto che usiamo questo modulo che si chiama express che è semplicemente un server web molto semplice da usare anche se in node ci sarebbe già un modulo che si chiama http che funziona da server web è molto primitivo e quindi non lo usiamo ok express non è l'unico modulo che possiamo usare ce ne sono tanti altri ma diciamo che questo è tra i più usati quindi ci piace già per questo è comunque sufficientemente potente flessibile ma anche semplice per poter essere usato facilmente ok quindi qui trovate per esempio una lista di quelli che sono i più diffusi ok come facciamo a farlo funzionare semplicemente vi ricordate come facciamo a far funzionare i programmi node node col nome del programma che è un file .gs che contiene del codice javascript quindi noi dovremmo ecco importare il modulo nella maniera in cui eravamo abituati in node quindi non con import ma con require creare l'oggetto che corrisponde a quel modulo così abbiamo accesso ai suoi metodi e poi usarlo ok quindi attivare il serve definire le root quindi gli url a cui il serve deve rispondere e così via ok quindi questo è molto semplice lo facciamo tra un istante facciamo una prova ecco un server parte e non termina questo è il concetto di server poi ad un certo punto l'amministratore del sistema lancia il server e questo server sta sempre attivo come google non è che google a un certo punto spengono il programma che fa da server web ok se lo spengono un problema c'è qualcuno che lo riaccende subito quindi un server parte e sta in attesa di richieste web fino a quando fino a quando non gli diciamo di smettere quindi fino a quando non interrompe l'utente cioè più che altro l'amministratore del sistema ma in questo caso siamo sempre noi perché sulla nostra stesso computer oppure fino a quando abbiamo fatto un errore nell'applicazione l'applicazione va in crash e va bene e allora si ferma e dovremo farlo ripartire ovviamente questo ci può capitare durante lo sviluppo ma non deve mai capitarci durante il funzionamento reale è quando abbiamo messo tutto a posto siccome quando sviluppiamo il server abbiamo bisogno di far modifiche al codice sorgente è chiaro che se facciamo modifiche al codice bisognerebbe che il server sia aggiornato con queste modifiche allora una delle possibilità è fermare il server e farlo ripartire quindi far rieseguire tutto il codice javascript del server oppure possiamo usare questo modulino molto comodo nodmon che sostanzialmente verifica se i file del server sono cambiati quindi noi abbiamo salvato qualcosa di diverso dentro questi file se si accorge un cambiamento ci rilancia il server è semplicemente una comodità in fase di sviluppo noi possiamo anche non usarlo però vedrete che alla terza quarta quinta volta in cui le cose non vi funzionano ah già ho salvato dovevo fermare il server e rilanciarlo mi stufate e vorrete una soluzione più adeguata e questo è una cosa molto utile ok come si installa? è semplicemente un modulino come gli altri nodmon un modulo npm ecco il meno g è semplicemente comodo per installarlo per installarlo a livello globale cioè globale del vostro sistema per cui in tutti i progetti avrete a disposizione la possibilità di lanciare nodmon senza doverlo installare in ogni singolo progetto ok se poi lo installate in ogni singolo progetto fa lo stesso va bene lo stesso però è chiaro che se è una cosa che deve semplificarci vorremmo che ce lo semplificasse al massimo mi raccomando questa opzione meno g è l'unica volta che la usiamo g sta per global quindi installata a livello globale non sbagliatevi utilizzata con altri pacchetti perché perché poi quando consegnate all'esame abbiamo bisogno che ci siano tutte le dipendenze dei pacchetti che usate per il server e anche per il client e quindi quando lo proviamo sul nostro computer noi dobbiamo ricostruirla con l'npm install e per cui l'unico modulo che non ci serve e quindi potete tranquillamente installare a livello globale è il nodmon perché sperabilmente all'esame il server si lancia funziona e non è mai da riavviare perché se è da riavviare vuol dire che c'è qualcosa che non andava ok comunque adesso vediamo tutte queste cose quindi abbiamo detto come facciamo a scrivere un server web con express è un file javascript importiamo il modulo lo creiamo l'oggetto e sull'oggetto dobbiamo fare almeno due cose definire una si chiama root si chiama root purtroppo si chiama root sia lato server sia lato client c'è questa ambiguità ma comunque quando parliamo del server per root intendiamo un url quindi un url al quale vogliamo che il server risponda e poi dobbiamo ovviamente attivare il server allora per definire una root dobbiamo prima di tutto definire il metodo http alla quale la root corrisponde quindi se è una get avremo punto get se è una post avremo punto post put punto put e così via poi dovremo dire il percorso cioè l'url effettivo al quale risponde slash è l'url di default quando noi facciamo una get verso un server all'inizio chiediamo slash cioè non c'è una stringa che va a specificare qual è la sottoparte del sito che vogliamo ricevere e poi siccome siamo in javascript dovremo passare una callback che faccia l'azione di restituire qualcosa a chi ha fatto la richiesta cioè al client ok quindi tra un istante arriviamo a questa callback dopodiché dobbiamo attivare il server quindi dobbiamo dire al server di stare in ascolto sul host ovviamente sul quale è stato lanciato il server quindi non c'è da specificare l'host a meno di casi particolari quindi per noi è il local host per cui non dobbiamo da specificarlo ma dobbiamo dire su che porta stare in ascolto non possiamo dire la porta 80 perché è la porta web classica perché su molti sistemi è una porta privilegiata cioè servono i permessi super utenti di amministratore e così via per cui scegliamo un'altra porta ma per noi non cambia nulla basta che poi nel client ci ricordiamo quale porta abbiamo scelto e poi una callback una volta che attivo va bene ma questo è più che altro semplicemente per stamparci ok siamo pronti una volta che sono eseguite tutte queste istruzioni che cosa fa il server web nulla è fermo in attesa non consuma risorse e in attesa di che cosa in attesa di una richiesta di connessione sulla porta che abbiamo specificato per cui node non termina perché sa che c'è qualcosa che può accadere c'è una callback questa qui che vediamo tra un istante che verrà richiamata nel momento in cui qualcuno manda una richiesta sulla porta 3000 prima di tutto si andrà a verificare se corrisponde a ciò che noi abbiamo specificato c'è una get slash e se si verrà eseguita la callback e se no ci sarà una callback di default ci sarà qualcosa che il server dirà tipo non ho trovato la risorsa e così via ok quindi come facciamo a scrivere questa callback allora abbiamo già detto che ci serve il nome del metodo get post put delete possiamo scriverli anzi dobbiamo scriverli in minuscoli perché sono questi sono metodi javascript quindi di un oggetto javascript fornito da express che corrispondono però ai metodi http che abbiamo visto prima il percorso quindi l'url e l'end quindi la callback la callback dunque c'è scritto sì la callback è una funzione che prende due parametri un oggetto res richiesta rec anzi scusa rec richiesta request e un oggetto risposta quindi noi dobbiamo scrivere del codice che a partire da questi due oggetti produca qualcosa da spedire indietro al client ok nell'oggetto richiesta ci troveremo dei metodi anzi dei in realtà queste sono delle proprietà no non ci sono diciamo delle proprietà ok perché non abbiamo granché da chiamare come metodo su request e che ci dicono ulteriori informazioni sulla richiesta per esempio punto body come potete immaginare ci fa accedere alla parte body della richiesta cioè questa che è arrivata con la richiesta http se noi in un post put eccetera non possiamo accedere a questa parte ce ne faremmo poco di sapere che vogliamo aggiungere un nuovo oggetto post su non so cos'era answer però se non mi dici cosa aggiungere cosa faccio ok quindi dobbiamo avere la possibilità di accedere alle informazioni della richiesta e quindi ci sono dei campi apposta per farlo vedrete nella seconda parte delle slide quindi nel secondo gruppo di slide vediamo nel dettaglio come andare a fare queste cose quindi descriviamo il funzionamento di express possiamo sapere quale metodo è stato chiamato ma diciamo che se siamo nella funzione che abbiamo già chiamato punto get sarà stato chiamato il metodo get se no non ci viene chiamato la callback i parametri questa è un'altra cosa importante perché possiamo fare delle root parametriche come le abbiamo fatte sul client possiamo fare sul server cioè degli url parametrici che so delete answer barra 3 la numero 3 ma possiamo scrivere barra 5 barra 7 ovviamente non dobbiamo scrivere un metodo per ogni numero questo va da sé e query ci consente come i params come avevamo visto use params e use query use query params non ricordo più il nome del metodo di accedere ai parametri quelli specificati con la sintassi punto interrogativo nome uguale valore quindi non dobbiamo metterci lì a separarli con tutti i metodi delle stringhe sono già resi a disposizione comodamente da express risposta ecco sulla risposta abbiamo dei metodi infatti sono indicati con la parentesi tonda che possiamo chiamare per dare la risposta al client quindi noi in realtà chiamiamo questo metodo sull'oggetto e poi nella callback nel codice della callback cioè nell'oggetto anzi che ci viene passato aggianciati a questi metodi ci saranno delle callback interne di express che si preoccupano di creare la risposta secondo il protocollo HTTP noi possiamo chiamare ecco send che è in modo di dire spedisci questo al client nella parte body e nella parte nel parametro di send mettiamo il contenuto tipicamente in questo caso è molto semplice una stringa o del codice HTML o qualcosa di questo tipo questo metodo lo useremo poco perché noi in realtà useremo il metodo .json cioè prendi questa informazione che è un oggetto un valore javascript codificala in json e dalla al client ok perché tipicamente avremo delle informazioni più complesse di un semplice numero di una semplice stringa da passare indietro al client e quindi facciamo fare tutte queste operazioni di codifica secondo il formato che andiamo a vedere tra un istante direttamente ad express possiamo fare un redirect verso un altro url diciamo probabilmente non lo useremo lo abbiamo citato per completezza e poi se non abbiamo nulla da dire semplicemente per dire basta così rispondi pure al client non c'è il body per esempio possiamo semplicemente chiamare .end ok c'è c'è un altro metodo ma poi ecco lo status perché non l'hanno messo qua c'è il punto status che ci consente anche di specificare qual è il valore dello stato da mandare indietro al client quindi il 200 ok il 404 not found piuttosto che il 500 qualcosa interno al server error e così via bisogna solo ricordarsi che siccome nel leader quindi la prima riga della risposta va chiamato prima di tutti gli altri metodi ok questo è il riassunto di quello che vi ho detto a voce quindi abbiamo l'end lo status il json il send lo usiamo adesso giusto per fare una prova ma fondamentalmente non lo useremo più e quindi quello su cui ci concentreremo al json redirect vabbè ma c'è poco da dire ecco di express ci interessa ancora sapere che è un sistema estendibile quindi possiamo inserire dei cosiddetti middleware che sono dei software che si mettono come dire a disposizione degli altri e quindi nel nostro caso del server express per estendere le funzionalità esempio vogliamo loggare quindi scrivere sul terminale tutte le richieste che ci arrivano di default express non lo fa ma noi possiamo inserire un middleware che come immaginate immaginerete sarà un altro modulo node quindi che installeremo con npm che fa questa operazione ok noi lo installiamo però dobbiamo dire a express di usarlo come si fa a dirglielo semplicemente dobbiamo registrarlo su app app è quello che è l'oggetto express e dirgli di usarlo ok poi a seconda del middleware le operazioni saranno più semplici o più complicate un middleware che fa locking non avrà bisogno di essere diciamo usato o indicato in modo particolare da qualche altra parte in altri casi sarà necessario indicare se vogliamo usare il middleware oppure no per esempio quando avremo l'autenticazione se noi dobbiamo usare il middleware quindi richiamare le funzioni di questo middleware nel momento in cui il client ci richiede qualche risorsa su uno specifico urlo uno specifico metodo viene quel app.metodo app.get app.post eccetera che abbiamo visto prima ha lo spazio per inserire delle callback che corrispondono a questi middleware dove come secondo terzo eccetera parametro all'interno della chiamata quindi diciamo è un metodo con un numero di parametri variabile e che riconosce anche il tipo del diciamo del degli oggetti passati quindi se passiamo un middleware se ne accorge e non ci cercherà rec res che è sempre l'ultimo parametro ma ci andrà a chiamare le funzionalità del middleware nelle nostre funzioni se fosse necessario andare a fare delle operazioni particolari ci scrive un middleware noi sappiate che esiste un terzo parametro che si chiama next che dobbiamo chiamare al termine delle nostre operazioni se non abbiamo fatto end oppure json oppure send quindi abbiamo chiuso la richiesta definitivamente con una risposta verso il client dobbiamo ricordarci chiamare next per passare le informazioni al prossimo middleware quindi c'è una catena di funzioni da chiamare comunque queste cose le vedremo nel momento del bisogno diciamo così un altro middleware molto utile è quello delle root statiche ossia fondamentalmente diciamo che tutto ciò che c'è in una certa cartella o in alcune cartelle di nostro interesse devono essere serviti come contenuti statici questo è il tipico caso in cui voi avete delle immagini del contenuto fisso che semplicemente volete rendere a disposizione via web perché tutto dovrà passare tramite il server web una volta che abbiamo il server web non potete caricarlo localmente dall'applicazione perché l'applicazione sta su un computer e il server sta su un altro nel caso reale noi ce l'abbiamo sul nostro computer per comodità ma in un caso reale il server sta in giro per la rete e la vostra applicazione sta sul computer nel browser locale quindi tutto ciò che dovete mettere a disposizione deve essere messo a disposizione tramite il server web siccome sarebbe scomodo scrivere una root quindi un urlo per ogni risorsa fissa che mettiamo a disposizione abbiamo la possibilità con un middle questo static di dire che certe cartelle vanno semplicemente servite come nomi dei file che si trovano in quelle cartelle eventualmente precedute da un prefisso che decidiamo noi giusto per non sovrapporre gli stessi url tra contenuti statici e contenuti dinamici che invece scriviamo come root separate per conto nostro per esempio potrebbe essere buona norma dare un barra static un barra fix content un barra images un barra quello che volete nella cartella che voi specificate qui come parametro di express static ci saranno dei file e questi si potranno accedere direttamente con il loro nome con una richiesta get ovviamente sarà una get perché l'unica cosa che ci facciamo su questi contenuti è scaricarli quindi recuperarli dal client ok quindi non c'è bisogno di scrivere delle app get apposta per ognuno di questi contenuti questo è molto comodo soprattutto quando abbiamo delle immagini per esempio che è il caso più classico che non vogliamo tenere nel db le mettiamo su un file system per esempio e allora le mettiamo lì e semplicemente sappiamo che poi dal client dobbiamo richiedere con quello specifico url ok questo l'abbiamo detto ecco per gestire il json avremo bisogno ancora di un altro middleware che però vediamo al bisogno ok questo middleware che gestisce il json sostanzialmente è comodo perché se il contenuto che arriva nel formato content type application json va a smontare l'oggetto json e a rendercelo e mettercelo a disposizione direttamente nel body sotto forma di tutte le proprietà che l'oggetto json rappresenta l'oggetto json di fatto è un oggetto è un modo di rappresentare un oggetto in javascript oggetto inteso come oggetto vero e array o array o numero o stringa e questo viene semplicemente reso a disposizione messo a disposizione come una variabile o più variabili a seconda del caso in javascript e quindi ci come dire evita di doverlo fare noi a mano ok vabbè i percorsi del get possono anche essere espressioni regolari cose più complicate eccetera ma direi che noi per ora ci focalizziamo sullo scrivere una stringa fissa al più con un parametro come vedremo tra poco perché ci serve per scrivere le root parametriche quindi delete cos'era answer answers 3 oppure post la post non mettiamo lì ma che so get answer 5 ok e le altre le lascerei per eventuali casi quando avrete acquisito familiarità potete provare a condensare più root in una però è chiaro che diciamo deve esserci una ragione forte devo fare la stessa cosa in qualche maniera devono deve essere utile per voi fare questa operazione ok ultima cosa importante diciamo così negli url possiamo mettere uno più parti parametriche come abbiamo fatto sul routing del client però questi sono url che noi andiamo a richiedere via http al server vero e proprio la sintesi è uguale due punti nome della variabile che vogliamo poter usare nel codice quindi lo decidiamo noi questo nome id user id e così via e sarà collegato a un identificatore che andremo a recuperare in rec.params il nome che abbiamo specificato in questa url nome parametrico quindi quello che inizia con i due punti ovviamente due punti esclusi quindi funziona un po' come le root del client che abbiamo visto l'altra volta solo che questi sono effettivamente degli url url che vanno sul server ok quelli che abbiamo visto l'altra volta sono url che stanno semplicemente sulla barra di navigazione del browser e stanno lì fermi e non verranno mai richiesti al server ok perché? perché se dal client richiediamo al server stiamo ricaricando l'applicazione e questo ci distrugge lo stato dell'applicazione ok quindi sono due cose separate andate neramente che sono separate dicevamo che abbiamo a disposizione un middleware per fare il login che è molto semplice lo importiamo e lo usiamo e adesso lo vediamo in un esempio ci sono anche dei middleware per far validazione dell'input questo è un aspetto importante e nel momento in cui avete degli url parametrici oppure degli url che ricevono del contenuto dal client prima di fare delle azioni vogliamo assicurarci che il contenuto sia valido perché su un server possono arrivare richieste da chiunque il server è aperto al mondo tutta la rete internet quindi non solo noi che scriviamo l'applicazione ma qualsiasi utente della rete mondiale internet può mandare richiesta al nostro server quindi dovremo assicurarci che quello che arriva sul server sia formalmente valido prima di iniziare a fare delle operazioni poi eventualmente possiamo anche fare altre verifiche più approfondite però se ci aspettiamo un numero è inutile iniziare a fare operazioni se questo valore non è un numero ma una stringa quindi se che so in questo urlo un user ID ci aspettiamo un numero se ci è arrivato Enrico che è una stringa è inutile iniziare a fare operazioni quindi possiamo già ritornare a un errore tutti questi test possiamo farceli noi a mano con if eccetera quindi con tutto il codice javascript che desideriamo ma esistono dei validatori molto comodi per questi casi molto comuni che so verifica se un numero sul numero intero verifica che sia compreso tra che ne so i numeri che vogliamo 0 e 100 verifica che sia una data verifica che abbia una lunghezza massima e così via tutte cose che possiamo tranquillamente scrivere noi in codice javascript ma che ovviamente se usiamo una libreria sono un po' più comodi un po' più leggibili nel nostro codice quindi qui vediamo un esempio però io questi esempi li lascerai un attimo da parte perché è tanto inutile che ci spacchiamo la testa sul codice e poi e poi tanto li dobbiamo rivedere nel momento in cui ci servono quindi ci sono tanti middleware questi sono quelli che useremo noi quindi c'è questo morgan vabbè c'è l'express validato l'abbiamo detto prima ci sarà il passport che avremo però più avanti per fare l'autenticazione che sarà oggetto di una lezione a sé ci sarà il course che useremo per far funzionare diciamo i due server insieme avremo un server per l'applicazione un server per l'api però anche questo vediamo più avanti e e quindi qui sostanzialmente abbiamo terminato ok quindi io vi farei vedere funzionamento di express ok nella sua versione più semplice possibile così vediamo come metterlo su ovviamente giovedì in laboratorio dovrete fare esattamente questa cosa come succede sempre facciamo una cosa in aula e poi la provate quindi vi discosterete un attimo vi staccherete dall'applicazione client che riprenderete la settimana prossima questa settimana proviamo a fare la parte server a imbastire una parte server ok allora io vi ho messo online come sempre sul github in av1 wix quindi sapete che abbiamo la nostra cartella del nostro corso week 10 c'è vabbè un exercise che è quello che faremo oggi ma è solo una guida non diciamo scriviamo dell'api va bene ok però prima di scrivere l'api facciamo funzionare un server ok allora per far funzionare un server io non partirei da zero ma più che altro per comodità vostra e anche mia di non dover scrivere troppo codice io ho scritto un file server js e ho creato un progetto senza mettere pacchetti che c'è il package json ok quindi ho dato solo un nome ho fatto npm init ok ricordatevi questo è separato dal client cioè questo infatti io l'ho chiamato react.coa server una cartella diversa un progetto diverso una cosa diversa ok anche perché in un caso reale questo sta su server chissà dove per la rete e l'altro sta sul vostro computer dove sviluppate e poi va bene lo mettete in qualche forma non necessariamente sullo stesso server quindi sono proprio fisicamente separati ok va bene poi ci sono un po' di altri file che ci servono per andare avanti più tardi quindi io apro il visual studio code sono nella cartella week 10 sono dentro react qua server ok quindi io dentro react.coa server ho questi file quindi ho un package json scusate torniamo al package lock che era una prova che ho fatto mentre vi aspettavo stamattina allora ho un package json andiamo pure a vederlo che non dice niente di particolare react.coa server ah vabbè mi ha messo un nome cioè mi ha messo un informe un testo che ho scritto così per far scrivere cos'è l'applicazione però non è fondamentale non ha dipendenze quindi per ora non ho installato nulla infatti se faccio npm install pm install non c'è nulla no non si aggiorna non c'è nulla allora installiamo tutto ciò che ci serve installiamo express install express ok poi installeremo di per sé basterebbe questo ok facciamo così facciamo server server base va così server base punto j s ok e scriviamo come abbiamo iniziato inizio corso un use strict ecco tra l'altro perché ogni tanto mettiamo use strict ogni tanto no sul lato server lo metteremo sempre sul lato client non lo mettiamo perché react va già in strict mode da solo nel momento in cui scriviamo il file gsx ok quindi questo è l'unico motivo per cui non lo scriviamo sul client allora per far funzionare express prima di tutto dovremo importarlo quindi ah l'avevo già aperto va bene quindi allora giusto per non farvi perdere tempo quindi dovremo fare la solita cosa che facciamo inizio corso const express require express ok poi faremo const app come abbiamo visto sulle slide express bisogna chiamarlo nel senso che si crea l'oggetto ok sul quale poi avremo a disposizione il get il listen e così via ok a questo punto a questo punto di fatto noi potremmo anche attivare un server web quindi allora app.listen diamo una porta 3001 per nostra comodità perché poi useremo la 3000 per l'applicazione web solo per quello e mettiamo una callback dicendo server ready console log ricordo questa callback che viene chiamata nel momento in cui il server è attivo ok ci va un attimo per attivare il server in realtà pochissimo perché tutto locale non c'è niente di particolare da fare però se fosse più codice registrare più route aprire il db eccetera magari ci va qualche non secondo ma insomma centinaia di millisecondi se noi vogliamo dire qualcosa quando lo facciamo partire possiamo appunto mettere un console log qui dunque questo dovrebbe funzionare quindi come lo lanciamo questo è un programma node come facevamo inizio corso node e server base ok mi ha scritto server ready e quindi su localhost 3001 mi scrive cannot get slash perché perché c'è una richiesta che dal dal client va verso il server get http localhost 3001 e non c'è nessuno sul server che risponde nulla no perché io non ho messo una route non ho messo app get slash eccetera quello che avete visto sulle slide però c'è un server attivo se io lo chiudo se io lo chiudo questa è la risposta firefox non può collegarsi non c'è nessuno in ascolto ma hanno una richiesta di apertura di connessione porta 3001 e il sistema operativo del server risponde non c'è nessun programma in ascolto ciao arrivederci ok quindi il server deve essere attivo e poi c'è una risposta di default di express fino a che non mettiamo delle route e chiediamo quelle route c'è una domanda sì in questo momento non l'abbiamo scritto il localhost perché ah sì ok no non mettiamo localhost dobbiamo mettere il nome del server quindi lei saprà che il suo server l'ha messo non lo so su boh amazon services punto anzi no mia applicazione punto amazon services punto com e ci scriverà quel quel nome lì o l'ip sì diciamo l'ip l'ip è un po' grezzo l'ip è un po' grezzo perché come quando lei accede a google scrive www google non scrive l'ip perché l'ip è un po' trasparente all'utente no e poi tra l'altro se metto il nome posso risolverlo su diversi server se metto l'ip invece rimango su un unico server per ip cosa che oggigiorno con http 1.1 non si fa più perché come sapete gli ip non sono tantissimi gli ip versione 4 e quindi sullo stesso ip ci stanno più server questo è il motivo per cui c'è quell'header host che è obbligatorio nella richiesta http 1.1 che oramai sono standard oggigiorno quindi io contatto un ip perché più nomi mi risolvono lo stesso ip ma poi quando arrivo su un server devo dire con quale server vero effettivamente voglio parlare che hanno tutti lo stesso ip però se io gli do il nome il server sa dirmi a quale rispondere nel nostro caso diciamo per semplicità sviluppiamo sul nostro computer e quindi è sempre localhost ok e quindi abbiamo fatto tutti gli esempi con localhost però mi raccomando quello che dice il vostro collega è assolutamente importante poi in un caso reale non c'è scritto localhost c'è scritto il nome dell'applicazione il mio bellissimo sito .com che è il dominio che avete registrato che avete agganciato il vostro server nella cloud da chi vi fornisce il servizio e così via ok quindi sono due cose fisicamente separate la nostra comodità diciamo è mettere sullo stesso computer perché se no dobbiamo andare in giro con due computer collegati in rete con la porta aperta sulle durame non si può e mille altri problemi che di fatto ci impongono per comodità di usare localhost ok però ottima mi raccomando quando avete questi dubbi chiedete perché se uno esce da questo corso dicendo come faccio a installare il server sul mio telefonino per far andare l'applicazione web facciamo così e diciamo non ci siamo spiegati non avete capito non lo so c'è stato un problema perché il server sta da qualche parte in giro per la rete non deve stare sul dispositivo client no a meno di casi molto particolari come il nostro stiamo imparando abbiamo un unico computer non vogliamo andare in giro con tre computer ecco va bene allora mettiamo una root app get perché mi suggerisce queste cose perché adesso tutti hanno una mania di suggerire slash e poi la callback la root principale è slash di default il browser quando non sa cosa chiede voi mettete il nome di un sito chiede slash ok rec res potete dare i nomi che volete ma come sempre almeno all'inizio vi invito a uniformarvi alle convenzioni perché è un po' più semplice da gestire res punto diamo una risposta fissa avevamo il metodo send ciao ok salvo adesso salvo vi faccio vedere che non funziona no che scomodo devo spegnere il server e farlo ripartire perché perché il programma è in esecuzione non è che mi prende le modifiche che ho fatto il programma viene eseguito una volta sola e quindi devo fermarlo e devo farlo ripartire adesso mi dirà ciao non è una risposta html è un po' barato per comodità per fare in fretta tanto se un prova è così giusto per diciamo fare fare pratica qui ecco nel tab network che terò quasi sempre aperto all'esame quindi tenetelo anche voi guardate sempre cosa succede lì sopra perché lì sopra si capisce cosa sta facendo l'applicazione client verso il server e viceversa ok quindi qui vediamo che il server scusa il client ha richiesto get slash quindi c'è la richiesta grezza no gli headers anzi c'è row ok quindi la richiesta qui sotto ok questi sono gli headers infatti vedete che c'è guest slash http 1.1 host lo header obbligatorio localhost 3001 mille altri header che mette da solo il client a noi non interessano per esempio mettere lo user agent così per curiosità quando vi dicono ah sei su windows ah sei su linux scarica qui scarica il programma per linux come fanno beh glielo dice il vostro browser mi dice guarda io sono filefox sto girando su ubuntu qualcosa eccetera quelli lo leggono e dicono ah sei su ubuntu ti do la versione linux ok non ci interessa per il momento anzi per direi per sempre per il nostro corso e e poi ci sono header di risposta http 1.1 200 case non dico nulla da una risposta di default express mi mette 200 quindi ok va tutto bene ecco l'è il body il body ci sono due tab apposta nella richiesta non c'è nulla perché nel get non è previsto body e nella risposta c'è scritto ciao mi scrive html perché io non ho detto express guarda dovresti mettere text barra text non so più qual è il mime type vabbè diciamo ho un po' barato perché poi so che il browser se anche gli do del testo me lo fa vedere volevo farvi vedere una risposta chiuso ok va bene allora proviamo il nodmon giusto per comodità io l'ho già installato anzi facciamo così lo reinstalliamo ma così install meno g nodemon tanto la versione vecchia dell'anno scorso così me l'aggiorna se non c'è me l'installa oh mi cosa vuole ah va bene ok questa siccome lo voglio installare a livello globale mi chiede il super utente ma questa è l'unica 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 cosa che installeremo a livello globale nel corso mi raccomando non fatelo per gli altri pacchetti se lo fate disinstallatelo installatelo per ogni progetto perché poi quando sottomettete il package JSON del vostro progetto poi finisce che manca un pacchetto all'esame è sempre brutto perché vuol dire che uno non l'ha provato non l'ha provato bene e così via ok allora nodemon server base funziona come prima non cambia niente quindi se io riprovo il ciao funziona il mio ciao cosa è cambiato che se io scrivo ciao 2 salvo il file questo se ne accorge mi rilancia il server e io quando vado a provare non ho più la seccatura di dover fermare e rilanciare il server tutto qua e però è comodissimo perché noi passeremo stamattina a modificare questo file server quindi tutto qui ok allora abbiamo visto funzionare express facciamo andare il logging quindi installiamo questo morgan avete visto io non riprendo tutte le slide basta che andate a copiare dalle slide ma comunque avete il file poi a disposizione quindi const anzi mettiamo qui const morgan require morgan ok e poi si fa così abbiamo detto per usare il middleware e dire di usarlo a livello globale in tutta l'applicazione express dobbiamo fare up.use morgan tanto ci serve solo qui quindi non ci facciamo un const morgan object quello che volete morgan prende delle opzioni noi gli diamo dev perché quella è quella che stampa tutte le richieste ok adesso salvo ah ok mi dice non c'è il modulo quindi in realtà questa volta devo fermarlo installarlo npm install morgan ok a fine di tutti questi lavori vi faccio poi il commit così ce l'avete intanto andiamo avanti una volta che avete il package json con tutti i moduli vedete che nel frattempo viene fuori express morgan eccetera se voi lo importate nel vostro progetto quindi lo mettete nel vostro progetto fatene un pm installate tutti i pacchetti senza dover più installarli uno per uno ok allora nodmon questa volta parte faccio di nuovo la mia richiesta di prima non è cambiato nulla sul client ma è cambiato che qui ci sono c'è il log delle richieste che è utile per capire cosa sta facendo la mia applicazione client o comunque io che faccio le richieste al server per vedere se le richieste effettivamente arrivano ok è un tool di debug ok direi che qui abbiamo fatto vedere un po' tutto ovviamente potremmo fare delle cose più sofisticate potrei fare lo static eccetera farmi una cartella e così via lo facciamo poi quando ne abbiamo bisogno c'è una domanda il favicon 404 perché i browser moderni vogliono tutti quanti cercare l'iconina da mettere qui in quest'angolino di fianco al localhost o all'url quindi quando andate su un sito carino che ne so vediamo un po' didattica speriamo che ce l'abbia no la didattica non si ce l'ha ok non la mette qui lo mette qui l'iconino del politecnico questo qui il favicon che quindi il browser automaticamente va a cercare il server gli dice guarda non ce l'ho allora non mette nulla il github ce l'ha il nostro diciamo è troppo raffinato lasciamolo pure stare ok però di per sé mettete una root statica slash favicon ci mettete la vostra iconina da servire da qualche parte la dovete creare secondo formato .ico e tutto quanto e vi mettete anche l'iconina ok e così ok è una richiesta che parte in automatico dal browser non ci possiamo far nulla il server gli risponde non c'è il browser ne prende atto finisce lì tranquilli e via ok infatti 404 vuol dire not found e via ok allora facciamo il commit così chi di voi vuole giocare un pochino spero non troppo mentre spieghiamo mentre spiego il resto server base package lock quindi no era qua quindi primo server express ah no volevo fare server based voglio salvare ok se no non vi viene fuori morga o forse avevo fatto qualche no forse il punto è virgola va bene allora adesso tutti lo ricevono guardiamo solo per sicurezza server e poi parliamo un po' di API facciamo sì c'è server base ok adesso abbiamo creato il nostro primo server web con express e dobbiamo farci qualcosa di consentiteli di dire di furbo no di un po' più interessante allora non facciamo pausa adesso è un po' presto eh però cominciamo a ragionare su che cosa fare di interessante lato server e poi la seconda parte della mattina lo facciamo queste sono le app i miei colleghi sono sempre molto spiritosi però diciamo l'API e l'HTTP sono un po' la colla tra il client e il server ma non è che non hanno detto il miele comunque va bene nel senso che sono quelli che ci consentono di far parlare il client col server quindi dobbiamo pensarle bene qui abbiamo la nostra applicazione che è ciò che abbiamo sviluppato fino alla scorsa settimana per noi è un frontend web cioè gira nel browser ma può essere qualsiasi cosa possono essere può essere un client anche solo embedded come nei dispositivi IoT può essere l'applicazione che gira sul vostro cellulare nativa piuttosto che che gira in un browser in un browser finto che non vedete come molte applicazioni oppure direttamente il vostro browser sul cellulare ma allora torniamo diciamo al frontend web solo abbiamo meno spazio e così via e dobbiamo parlare con qualcuno che ci dia le informazioni e eventualmente memorizzi le informazioni quindi il nostro problema è risolvere questo punto interrogativo questa mattina quindi dobbiamo avere dei servizi e un database per immagazzinare le informazioni questo l'abbiamo risolto abbiamo detto usiamo SQLite 3 dobbiamo avere dei servizi che adesso pensiamo e sono quelli che forniremo via HTTP tramite le route che andiamo a creare su Express e qui dobbiamo pensare come usarli sostanzialmente prima di tutto dobbiamo decidere come far viaggiare l'informazione soprattutto quando è complessa non è tanto il singolo numerino lo convertiamo in testo e via è facile però che so aggiungiamo aggiungete un film aggiungiamo una risposta allora dobbiamo dire che il titolo è questo l'autore è questo lo score è quest'altro e così via c'è dell'informazione complicata che deve viaggiare in qualche maniera deve essere codificata come detto noi codifichiamo l'informazione in JSON che vediamo tra poco e poi dobbiamo stabilire quali sono gli end point cioè quelle che prima abbiamo chiamato le root gli url lato serve da usare per fare ogni operazione con i relativi metodi allora prima di tutto come codificare l'informazione noi usiamo questo JSON anzi in realtà la pronuncia corretta è JSON con l'accento sulla prima vabbè che sta per JavaScript Object Notation quindi è adattissimo a JavaScript ovviamente ma in realtà è usatissimo anche al di fuori di JavaScript perché? perché è un formato testuale molto semplice però abbastanza potente che è in grado di rappresentare diciamo una gerarchia di informazione potenzialmente complicata quindi è un sottinsieme a sintesi JavaScript per gli obietti literal sostanzialmente per rappresentare array e oggetti JavaScript ma diciamo di qualsiasi tipo basta che il tipo di informazione sia previsto da JSON quindi numeri stringhe boolean null mi sembra e poi altri oggetti più complessi come gli array e gli oggetti stessi è uno standard ECMA RFC eccetera il media type da usare l'abbiamo già visto application JSON quindi anche questo è stato standardizzato quindi quando negli header HTTP bisogna dire qual è il formato c'è questa string che un invocamento identifica il JSON e vabbè qui c'è tutto come funzione eccetera fondamentalmente i tipi primitivi sono stringhe numeri vero falso null bisogna sempre usare le doppie virgolette quindi è un po' diverso da JavaScript in JavaScript singolo e doppio fa lo stesso in JSON sempre doppie questo ve lo dico perché ogni tanto capita cosa ha questo JSON che non va è semplicemente di usare le doppie e non le singole tutto il resto era a posto gli array si dichiarano con le quadre gli oggetti composti con le graffe come in JavaScript tutte le chiavi sono stringhe quindi non posso usare variabili no cioè tutto ciò che stringa tra virgolette e tutto deve essere tra virgolette quindi le chiavi devono essere per forza stringhe quindi questo è un esempio di JSON c'è un oggetto che ha dei campi first name last name address phone number quindi quattro campi i primi sono semplici sono delle stringhe il terzo è un oggetto a sua volta quindi apro graffa e posso metterci oggetti dentro oggetti come faccio in JavaScript l'unica cosa attenzione appunto al fatto che tutto stringa tranne i numeri quindi questo numero quindi non ha le virgolette proprio un numero classico oppure posso scriverci true false null quando ho bisogno di un null ecco posso fare anche gli array quindi il quarto è un array aperto a quadra e poi nella quadra di nuovo come in JavaScript posso mettere di tutto stringhe, numeri, array oggetti e così via quindi è un formato molto flessibile ci siete già abituati se noi dichiarassimo un oggetto JavaScript cosa cambierebbe qui? cambierebbe semplicemente che forse non metteremmo un po' di virgolette quindi abbiamo in JavaScript un oggetto JSON tutto maiuscolo che ci dà due metodi molto comodi uno per trasformare un oggetto JavaScript in JSON oggetto inteso in senso lato quindi può essere un numero una stringa ma qui c'è poco da trasformare un array o un oggetto vero e proprio e cosa ci ritorna? ci ritorna una stringa con tutto il contenuto JSON funziona ricorsivamente anche sugli oggetti array annidati quindi se abbiamo un oggetto complesso questo ce lo trasforma tutto per intero in una stringa ovviamente non può trasformare le funzioni cioè se abbiamo una callback cioè un riferimento a una callback eccetera non è che ci mette il codice della callback quello viene ignorato e tutti gli undefined vengono ignorati e poi c'è il metodo parse che fa il contrario passiamo una stringa JSON se tutto va bene ci costruisce un oggetto anche con i sottoggetti annidati eccetera che corrisponda con la rappresentazione JSON quindi abbiamo quindi abbiamo due metodi uno per creare uno per leggere il formato JSON che ci saranno utili per trasformare da variabile a stringa da trasmettere e da stringa variabile da usare su chi riceve ok questo è un dettaglio lo lasciamo stare ok quindi sistemato il JSON con quattro parole ma vedrete che è molto semplice quando c'è bisogno lo creiamo anzi addirittura queste funzioni non le vedremo neanche perché Express lo fa già per noi dobbiamo sistemare dopo il JSON come far funzionare gli endpoints cioè le root del nostro server quindi noi non basta slash slash è una dobbiamo non so avere slash dammi tutte le risposte dammi tutti i film dammi tutti i film dammi il film con id uguale a 5 dammi tutti i film che non so hanno l'attributo favorite e così via dobbiamo cercare di trovare un modo per comunicare al server che ci interessano queste informazioni potremmo fare come ci garba nel senso che di per sé nulla ci vieta di creare gli url come ci pare però se noi cerchiamo di seguire qualche regola che vi invito a seguire è meglio perché abbiamo così degli url delle root un po' più ordinate sul server e ovviamente seguire delle regole di solito ci fa anche prevenire eventuali errori ok allora noi di solito dobbiamo gestire degli insiemi di dati uniformi pensate alla lista di film delle liste la lista di film la lista delle risposte la lista delle domande non so quello che ci sarà l'esame quindi ha senso mettere nel url diciamo in questa stringa che noi passiamo dopo il nome del metodo ha senso mettere il nome della collezione il nome della lista quindi se io chiedo le answers le risposte metterò answers se chiedo i films metterò films se chiedo le domande metterò questions e così via ok quindi slash question next answer eccetera ok così come dire do un nome univo a ogni collezione o ogni lista e se ho bisogno di studenti chiedo gli studenti se ho bisogno di corsi chiedo i corsi e non è che ho mai il dubbio come lo chiamate ho chiamato list courses course list lo chiamate list of courses eccetera no più che altro per mantenere le cose ordinate perché poi una volta che voi sapete come si chiama l'url e lo volete usare nulla vi impedisce di farlo ok se voglio un singolo elemento di una certa collezione uso il nome della collezione slash l'identificativo dell'elemento quindi voglio il film con i d5 films barra 5 voglio answers barra 3 e così via qui c'è students barra s12456 e così via questo perché per mantenere le cose ordinate solo per questo nulla mi vieterebbe di fare più pasticci però tipo se non ci metto students e poi questo identificativo lo metto a livello diciamo di slash iniziale poi mi farà match quando lo chiamo con students students mi viene preso come identificativo o come nome della collezione diventa tutto un pasticcio se seguo queste regole diciamo che nel 99% di casi non doveste avere problemi magari ci sarà il caso un po' strano un po' dubbio potete chiedere se vi capita però diciamo sono regole derivate da uno standard che si chiama rest che noi non facciamo nel corso perché una volta lo facevamo però ci sembra di caricare un po' troppo su questo aspetto non è l'obiettivo nostro di andare a pensare diciamo come organizzare il meglio un server ok però cerchiamo di dare delle linee guida ragionevoli e queste sono derivate dal rest che non seguiremo proprio esattamente perché ogni tanto è un po' macchinosetto su certe cose però diciamo sono comunque già ben pensate e ben testate per decidere il nome di questi URI quindi di queste collezioni possibilmente usate dei nomi e non dei verbi al plurale e non al singolare e dei nomi concreti non barra oggetti barra objects barra lists perché se no non si capisce più nulla se sono nomi astratti è chiaro che è tutta una lista però era la lista dei corsi era la lista degli studenti era la lista delle risposte cioè cos'era se lo chiamo risposte sono risposte ok quindi sembra banale ma è abbastanza come dire importante darsi un certo ordine che deriva da chi ha già fatto esperienza con queste cose e vi suggerisce un qualcosa che vi può aiutare il server deve supportarci delle operazioni su queste collezioni allora uno restituirci la lista e va bene quindi diciamo fare il find search al bisogno o eventualmente darci tutto e poi deve supportarci le tre classiche operazioni di aggiunta aggiornamento e cancellazione quindi dobbiamo poter creare un nuovo studente cancellarlo perché si è laureato dobbiamo aggiornare oppure aggiornare perché è passato da triennale a magistrale ha cambiato matrica dobbiamo aggiornare e così via ha cambiato indirizzo dobbiamo aggiornare ok quindi sono le classiche operazioni che ci capita di usare su tutti gli oggetti quindi noi dobbiamo avere una maniera per gestire le collezioni quindi dargli dei nomi gli identificativi per identificare singoli elementi nelle collezioni e fare queste operazioni adesso vediamo come farle quindi le operazioni questo ultimo pezzettino che ci manca nello schema iniziale questo arancione quindi dobbiamo fare aggiornamento no scusa aggiunta aggiornamento cancellazione lettura confronti vari eccetera eccetera quindi questo per eccetera mi se sono qui solo per scena come facciamo a dire che operazioni dobbiamo fare abbiamo visto i metodi http prima non è un caso che i metodi abbiano la stessa semantica di queste operazioni get dammi le informazioni post aggiungi cioè crea aggiungi put aggiorna update quindi aggiorna delete cancella poi ce n'erano qualcun altro però diciamo questi sono i fondamentali quindi noi dovremmo usare questi metodi che si chiamano anche verbi http si chiamano verbi perché sono azioni quindi recupera recuperare creare aggiornare cancellare e adesso vediamo come farlo quindi questo è lo specchietto che dovete tenere bene a mente quando fate le operazioni allora sto facendo un'operazione su una collezione quindi una lista di oggetti la voglio semplicemente recuperare get e il get sulla collezione quindi get films get answers mi darà la lista di tutti gli oggetti della mia collezione posso usare lo stesso metodo get anche su un singolo elemento e mi darà le informazioni specifiche di quell'elemento quindi get answers 5 get films 2 2 l'id identificativo del vostro oggetto e questa root mi darà le informazioni su quello specifico oggetto in quella collezione ok quindi questo ho sistemato la versione base di recuperare le informazioni poi è vero che potrei fare cerca lista solo certi oggetti eccetera ma questo è un po' più raffinato saranno sempre get devo aggiungere dei parametri ci penso poi cominciamo con tutto ho solo uno identificato dall'identificativo aggiungo post allora quando aggiungo chiamo post sulla collection quindi post barra answers post barra films post barra questions post barra students e così via nel body che prima era vuoto nel body della richiesta http ci metto l'oggetto da aggiungere ok mi verrà poi restituito come è andata l'operazione magari non poteva aggiungerlo perché ne esisteva già per dire però se è andato tutto bene mi verrà detto che è andato tutto bene e così via questa operazione si fa solo sulla collezione non ha senso farla sul singolo elemento perché il singolo elemento se esiste già non è da aggiungere ok quindi fare il post su answers barra 5 non ha senso perché perché la risposta 5 esiste già ok invece ha senso fare put per aggiornare rimpiazzare cambiare qualcosa sull'elemento 5 e non ha senso fare put a questo punto sulla collection su tutta la lista perché se non dico quale voglio aggiornare che cosa faccio non so quale aggiornare ok delete di nuovo ha senso farlo sul singolo elemento perché dico delete answer 5 e mi cancellerà la risposta con identificativo 5 ok potrebbe averlo fatto su tutta la collezione ma è sconsigliato infatti adesso andiamo avanti con un esempio vero quindi diciamo dogs c'è la collezione dogs cani potremmo leggere films qui va benissimo films quindi il get su dogs mi dà tutta la lista la lista di tutti i cani get films la lista di tutti i films get answers la lista di tutte le risposte dogs barra 1 2 3 4 mi dà l'informazione riguardo al cane con identificativo 1 2 3 4 quindi a questo id post su dogs crea un nuovo cane post su dogs con un identificativo mi darà errore io non voglio poterlo fare su server quindi semplicemente il server darà errore tutte le route che non esistono di default avete visto all'inizio cosa succede verrà fuori cannot post non lo so cosa scrive con un codice di errore put sulla collezione evitiamo perché si potrebbe pensare di aggiornare tutto insieme però evitiamo così come evitiamo il delizio tutta la collezione put e delizio le facciamo solo su specifici elementi ok quindi se esiste aggiorna l'informazione del cane numero identificato dal 1 2 3 4 oppure cancella le informazioni relative al cane 1 2 3 4 ok quindi questa è una maniera di scrivere le nostre API pensando in termini di collezioni di singoli elementi della collezione con i 4 metodi http che dovete usare per comunicare al server che cosa volete fare non è solo una come dire una mania quella di dire uso una post per aggiornare cioè per aggiungere un elemento a una collezione ma se usate post sia il browser sia il server capiscono che state facendo un'operazione di aggiornamento per cui vi possono anche aiutare ad evitare di fare operazioni sbagliate vi è mai capitato di andare su un sito ricaricare una pagina ricaricare qualcosa in generale non c'entra la nostra applicazione in generale ricaricare una pagina e il browser vi fa attenzione se ripeti questa operazione potresti potresti avere un problema perché il server rifarà l'operazione che è stata fatta prima questo è perché voi avete fatto un'operazione post per esempio la classica post è avete pagato qualcuno se l'ha chiamato una seconda volta pagate una seconda volta ok questo è diciamo il caso più critico però avete aggiunto qualcosa magari aggiungete un secondo elemento uguale a prima se il server non vi ferma per qualche motivo e così via quindi potenzialmente create un problema se voi avete usato una get una qualsiasi get il browser dirà vabbè legge io non mi aspetto che il server faccia alcuna modifica va bene dai fallo leggere non lo fermo non fermo l'utente con un messaggio con qualcosa che dice fai attenzione a quello che stai facendo quindi è assolutamente importante usare i metodi corretti per andare a fare le operazioni sul server ok qui non abbiamo niente di particolare da dire ovvero quando serve c'è la risorsa ovviamente in formato json ci sono delle come dire delle indicazioni non c'è uno standard lo standard c'è si chiama rest però poi ognuno lo declina un po' come vuole diciamo tutti i grossi sviluppatori che ci sono in giro ovviamente hanno un po' le loro consuetudine e convenzioni per esempio se voi andete a vedere come fare l'API per se siete a Google vi daranno questo tipo di convenzione che hanno anche pubblicato se ci clicchiamo sopra adesso venga fuori questa tabellina quindi ognuno come dire ha la sua maniera di gestire tutte le convenzioni relative a questo tipo di API ok quello che vediamo noi è secondo noi abbastanza ragionevole non troppo complicato senza esagerare nella difficoltà e diciamo e si attiene abbastanza a quelli che sono gli standard in uso in giro per per la rete per quelli che effettivamente realizzano queste API arriviamo solo qui a finire l'API poi l'express lo lasciamo dopo quindi ovviamente abbiamo fatto tutto un po' semplice come dire non è che tutto è semplicemente una collezione o un elemento di una collezione ci sono delle relazioni tra collezioni cioè se io come nell'esempio che sto portando avanti qui in aula ho delle risposte ma queste risposte sono collegate a una domanda poi faccio dire che voglio tutte le risposte relative alla domanda numero uno e dove lo metto risposte no? faccio get question uno e poi oppure get answers answers cosa perché sono le risposte alle question question uno non tutte ok e quindi ecco quando abbiamo questi casi vi consigliamo questo formato dell'URL collezione identificativo e relazione ok quindi studenti identificativo studenti corsi e per noi sarà per esempio domanda identificativo domanda risposte ok voi nell'esempio del laboratorio avete un caso più semplice ci sono solo i film quindi non avete ancora una relazione però potrebbe essere che so che i vostri film sono stati visti da una serie di utenti potreste avere films 3 il film con identificativo 3 utenti o visualizzatori come si chiama utilizzatori quello che volete ok vi tira fuori tutti gli utilizzatori tutti quelli che hanno visto il viewers tutti quelli che hanno visto il film numero 3 ok quindi questa è una maniera per risolvere il problema di andare a cercare informazioni collegate da una relazione su una serie di collezioni presenti sul lato server nel momento in cui avete query più complicate da fare potete valutare vi invito a valutare di usare diciamo il classico sistema che è quello del punto interrogativo parametro uguale valore perché ogni tanto le query possono essere complicate per esempio dammi tutti e soli gli utenti che tutti gli studenti che sono della laurea triennale che però hanno seguito il corso applicazioni web 1 no in realtà siamo alla magistra fa niente che però sono ancora in debito d'esame che però hanno anche nel piano di studi il corso applicazioni web 2 web application 2 ok quindi tutte queste robe non è che potete continuare a fare slash 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 perché poi ogni volta che fate slash qualcosa bisogna che ci sia una root get che fa il match con quello invece se mettiamo punto interrogativo qualcosa qui potete mettere una serie di parametri uguale valore quanti ne volete la root sarà sempre unica perché la root la scrivo fino al punto interrogativo ciò che c'è dopo il punto interrogativo sono parametri per forza per definizione li andrò a recuperare diciamo col metodo che dicevo prima però lì posso scrivere tutto quello che voglio ovviamente dovrò avere del codice che gestisca quello che io ho scritto dopo il punto interrogativo se no è inutile però lì ho più libertà di specificare tutto quello che desidero ok quindi se avete delle query un po' complicate da effettuare e da descrivere negli url vi invito a pensare se non è il caso di usare questa sintassi punto interrogativo parametro uguale valore eccetera eccetera tipicamente per il filtraggio come ritornare gli errori l'abbiamo visto prima ci sono gli status code di http quindi non tornate mai 200 se c'è qualcosa che è andato storto tornate un numero della serie 400 500 quindi 400 sono errori not found classico 500 c'è stato un problema di processamento generico va bene in più se volete nel body potete inserire delle informazioni addizionali potete dire cosa è andato storto quanto vi fa seccare un sito in cui fate un'operazione vi fa error error cosa dimmi cosa c'è che non va quindi però cosa c'è che non va lo sa il server quindi qualcuno deve aver detto sul server che cosa c'è che non va deve averlo spedito al client il client quando l'informazione poi se fatto bene vi visualizza l'errore possibilmente in un formato decente l'errore sql non lo so che cosa sia successo se fate bene il server avete non so questo not found vi dice che so non esiste l'oggetto con identificativo 3 non è possibile fare questa query perché non esiste il campo altri corsi nella tabella non lo so quello che volete ovviamente gestire gli errori è una faccenda complicata per cui la lasceremo un po' per ultima anche per l'esame è l'ultima cosa di cui preoccuparsi che non vuol dire non preoccuparsene però sicuramente se manca un po' di gestione degli errori ma tutto il resto è ben fatto e il voto sarà molto buono ok se invece manca il funzionamento dell'applicazione ma avete gestito tutti gli errori sicuramente il voto è decisamente peggiore per cui essere coscienti del fatto che gli errori prima o poi vanno gestiti qualcuno li deve gestire se vuole fare una bella applicazione che non vuol dire tutti i possibili stranissimi errori eccetera però diciamo gli errori comuni che possono succedere devono essere gestiti giusto per fare di nuovo l'esempio con l'esame l'autenticazione metto la password sbagliato lo username sbagliato devo uscirmi fuori attenzione username password errata ok perché se no premo il bottone non vedo che è successo qualcosa cosa ha questo sito e non so cosa fare ok questo è solo un esempio però durante anche il funzionamento dell'applicazione dipende da cosa dovete fare schiaccio un bottone aggiungo un oggetto e non mi viene detto che l'oggetto non è stato aggiunto io penso che sia andato tutto bene e poi non me lo trovo e dico il cosa ho fatto si è sbagliato non ho cliccato riclicco riaggiungo non funziona questo sito non funziona ok all'esame cerchiamo di mediare un po' tra queste esigenze però diciamo ci sono errori importanti da gestire perché sono nella logica di funzionamento dell'applicazione l'applicazione deve impedirmi di aggiungere una cosa se non ho specificato tutto questo deve essere fatto c'è l'errore strano sul server eccetera si può lasciare probabilmente come errore generico comunque come ultima cosa da implementare prima di consegnare il progetto se avete tempo ok quindi se non sapete come fare per progettare le vostre API cercate di rifarvi a qualche standard possibilmente di qualche come dire azienda o istituto abbastanza riconosciuto e autorevole noi vi abbiamo suggerito google ma non è che sia l'unico quindi se aprite altri siti è pieno di guidelines per fare queste cose cercate solo di non prendere l'ultimo come dire sviluppatore che ha dato una risposta su stackover il nostro ipover run insomma ha detto la sua ma cercate di usare come dire un qualcosa che possibilmente sia almeno coerente con se stesso ok perché la coerenza diciamo vi aiuta più che altro a evitare gli errori ok direi che per ora ci fermiamo qui per facciamo un po' di pausa e dopo finiamo il discorso sull'API e implementiamo l'API nel codice ok sto